E' stata una bella esperienza perché tre partite dove comunque punto a punto fino alla fine delle gare combattute. Bello perché i giocatori hanno pensato alla parte più bella del gioco senza insulti o andare fuori dalle righe. Due squadre ben allenate quindi è stato bello, peccato per come è finito. Questa annata te l'ha allungata la carriera o te l'ha accorzata perché ne hai spese tante? Ma io rimango dell'idea che l'allenamento ti mantiene in forma quindi giocare, stare attivo ovviamente secondo me ti allunga. Ovvio che se fai 15 anni campionato Eurolega arrivi consumato.